I giovani sono tutti più che attivi, operativi e soprattutto vogliosi di fare campagna elettorale, hanno già iniziato. Le iniziative si svolgeranno in tutte le piazze, tanti tanti gazebo previsti, ma soprattutto in incontri pubblici. E come ai giovani una delle cose più importanti che faremo è andare soprattutto dentro le scuole, dentro le università, a portare l'attenzione a questo tema, perché non è solo l'euro, non è solo la battaglia contro l'euro, ma tutti anche i problemi legati poi a quello che sono i disastri che ha fatto l'euro, e che potrebbe fare ancora l'euro, che tocca andare vicino ai giovani sul tema del lavoro, dell'occupazione, di tutti quelli che sono i problemi che in dieci e passano anni l'euro ha portato e che noi vogliamo ovviamente spazzare via. Questo è importante, i giovani ci sono e ci saranno sicuramente.